Facciamo una testa che lui ha finito adesso E' un piano che ti vengono Dovrebbero andare tutta la passività, sti maledetti Passività, passività Quindi le carichiamo sulla porta 10 e io me ne prendo completa Ma voi le hai fatte tutti? No, no No, no Bella Ma no, io, eh Non vedo che viene Oh, se c'è suolo Anche, sema, un mercato Uhhh Ma c'è l'aiuto? La macchina Ma c'è l'aiuto? No, c'è il Matteo Facciamo un giro Non ciò Non ciò Ma che sei, ma un mercato Uhhh grazie è noiosi stanno all'uario, all'ordinamento questi maledetti dai va comunque è già il primo match passività altri 30 secondi che si passa all'altra stanza con il tuo passività pure questo, non si scone altri 10 secondi passività anche questo io non lascio tutta cosa no la fanno a 1.50 si 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 però non è giusto no ma non è giusto non è giusto un assalto a 5 e basta grande grande ma se la gioca è una ultima sala questo non ci viene a fare non è giusto ma non è giusto ma non è di non ma è giusto prima Prima lo sai cosa mi è successo all'aprenda blu, stavano tirando la semifinale ed erano tipo 40-20 Allora si sono messi d'accordo con i due tiratori, li hanno fatti pronti a prova e colpo dopo Cioè si mettono a camminare colpo doppio, doppio, 45-12, 60-20 Cioè fanno schifo, fate Te lo giuro E' giusto? Ok Andiamo E' bellissimo E' bellissimo Sono giovane i due più forti in una solta e cinque Ma fa' un subemello, quelli erano più forti l'alto Caral Caral A un po' di fattore E' bellissimo 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 Posa Ho scelto che la gente non si segue questo schermo sulla televisione? fanno cagare, fanno delle merda io stavo da suttando stavo da suttando io ci vuoi suttare solo qui? no, due risultati una giornata una giornata piu piu grazie per ora per ora siamo sempre a giocare a giocare a giocare a giocare Sì Buongiorno 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 Grazie a tutti. 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 No. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.